Tre minuti per spiegare il no dei comunisti al referendum istituzionale. In primo luogo il nostro è un no di merito, perché questa Costituzione è certo frutto di un compromesso sociale, ma è una delle migliori Costituzioni d'Europa. Se una critica bisogna muovere a questa Costituzione, non è sul fatto che debba essere cambiata, ma sul fatto che debba essere applicata. Molti dei principi di questa Costituzione sono stati solo scritti, ma poi sono stati disattesi. In secondo ordine questa Costituzione è stata oggetto da tempo della volontà di un cambiamento per restringere i diritti e le libertà nel nostro Paese. Vorrei ricordare l'intervista di Licio Gelli sul Corriere della Sera. Il capo della P2 voleva un percorso simile a quello che abbiamo vissuto in questi anni, una riduzione delle pratiche parlamentari per poi arrivare a un maggiore intervento ed efficacia dello sfruttamento, della riduzione della libertà nel nostro Paese. Ed è per questo che noi nel profondo vogliamo dire no. La seconda questione che vogliamo anche evidenziare è un po', consentitemi, la cattiva compagnia di questo no. Certamente ci troviamo in compagnia noi comunisti con la destra di Berlusconi, della Lega, però ci troviamo anche in compagnia di una sorta di finta sinistra che oggi si muove contro Renzi motivata da ben altri obiettivi. Il no di D'Alema è molto diverso dal nostro no. D'Alema con la bicamerale, quando era al governo, aveva idee molto simili a quelle di Renzi. Verrebbe da dire che il no di D'Alema oggi a Renzi è perché non riesce a fare le stesse cose, vorrebbe essere lui al suo posto a fare quelle cose. Poi c'è il no di Monti addirittura, forse gli hanno scippato il partito, il simbolo, però il no di Monti è il no dell'Europa. Insomma, non scherziamo, il nostro no è un vero no motivato. Poi vorremmo lanciare un ultimo appello alle persone e ai lavoratori. Questa battaglia referendaria è certo importante, ma non è che con il no cambia la società. Il no è un punto importante di difesa. Serve ridare protagonismo, serve essere di nuovo partecipi nelle lotte. La politica non si fa con un click su internet. La politica si fa andando nelle piazze, tornando tra i lavoratori. L'Italia sta mandando i soldati in Lettonia. L'Italia per avere i soldi del terremoto deve inginocchiarsi all'Unione Europea. Queste sono le vere battaglie da fare. Quindi tornare ad essere protagonisti, capire che la politica è un'altra cosa dai balletti, dai teatrini che voi vedete ogni giorno. Il no dei comunisti è un no, quindi profondo, motivato, diverso dagli altri, perché ricorda il no dei resistenti, il no di quelli che hanno dato la vita per cambiare questo paese. Votate no.